saranno tre le piazze delle comuni di città di castello coinvolte nell'edizione 2022 di altro cioccolato più altri luoghi tra parchi e larghi dedicati agli eventi e alle mostre un percorso goloso quello che dal 21 alle 23 ottobre attendi i visitatori che per tre giorni troveranno mostra mercato eventi e contenuti dedicati al mondo del cioccolato equo solidale una vera e propria festa del gusto con tante ricette per abitare il pianeta una proposta quella dell'associazione umbria equo solidale non solo gastronomica ma anche e soprattutto culturale rivolta a grandi e piccini che intende quest'anno informare sensibilizzare il grande pubblico su modalità e soluzioni possibili per affrontare in un'ottica di sostenibilità e umanità un presente ma soprattutto un futuro di grandi cambiamenti così fra un assaggio di ottimo cioccolato artigianale e uno di street food a chilometro zero e bio nelle piazze di città di castello si parlerà anche di cambiamento climatico e salvaguardia del territorio di mutualismo e filiere solidali e locali del cibo facendolo anche tramite linguaggi diversi e originali per scoprire quali saranno gli ingredienti necessari per abitare con più consapevolezza il mondo che verrà l'inaugurazione di altro cioccolato è prevista per venerdì 21 ottobre alle 16 e 30 con il letaglio del nastro in piazza matteotti e l'apertura degli stand